con la coppia 27 e ciò che accade dentro e fuori dalle stanze del dibattito e della trattativa oggi affronteremo vari temi riassumendo un po il weekend lungo che abbiamo ha visto il lavoro dei delegati proseguire in maniera importante ma parleremo anche di ciò che è successo fuori con le proteste di molti attivisti contro il mancato rispetto dei diritti umani ed era inevitabile che accadesse ma soprattutto l'intervento di biden ma andiamo direttamente ad affrontare ciò che è accaduto e ne parliamo ovviamente dopo la sigla a naviganti bentornati nel nostro percorso sulla copp partiamo dalle proteste fuori numerosi gruppi e associazioni hanno protestato negli spazi antistanti le aree dedicate alla copp 27 proprio per ricordare come l'egitto che il paese organizzatore in realtà è uno dei paesi dove meno è rispettato il tema dei diritti umani e quindi c'è una forte incongruenza tra una copp che ha il focus sull'africa e un paese che al suo interno applica diciamo il pugno duro verso le opposizioni e la libertà di pensiero un altro elemento chiave che ha un po monopolizzato il dibattito intorno e dentro la copp è stato l'intervento di biden biden nel suo intervento ha dato una forte enfasi al rientro degli stati uniti nel percorso della copp e nel protocollo di parigi dal quale si era sganciato trump biden è arrivato a scusarsi con l'intero pianeta di quest'atto del presidente del precedente presidente degli stati uniti e però ha anche dato tutta una serie di spunti molto interessanti che proviamo ad analizzare uno per uno almeno quelli più importanti biden ha ricordato come la crisi climatica riguarda la sicurezza umana la sicurezza economica la sicurezza ambientale la sicurezza nazionale la vita stessa del pianeta lottare ha detto biden contro il cambiamento climatico è un imperativo vedete come l'uso dei termini del presidente degli stati uniti ha un po ripreso quello che è stato l'intervento del presidente della copp sucri quindi calcando molto la mano sull'urgenza e sulla pesantezza della situazione che stiamo vivendo biden ha aggiunto che la nostra missione non può che essere quella di evitare la catastrofe climatica e dobbiamo puntare a ridurre come stati uniti quindi devono puntare a ridurre le emissioni di almeno il 50 e il 52 per cento entro il 2030 quindi un obiettivo molto importante confermando di fatto ciò che si era già definito a livello di parigi gli usa si sono impegnati a fare tutto il possibile per evitare l'inferno climatico per il pianeta per farlo biden si è dato un obiettivo molto preciso tagliare l'uso del metano attenzione che questo obiettivo è praticamente in antitesi a ciò che sta facendo oggi l'europa e in particolare l'italia come vedremo anche dopo proprio sul tema dell'approvvigionamento energetico spostando molto il suo focus della crisi energetica sul metano biden dice che la riduzione dell'approvvigionamento di metano e quindi della produzione di energia da metano è la migliore possibilità che abbiamo di raggiungere l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale del pianeta nel grado e mezzo al 2030 quindi di nuovo sottolineando l'impegno di parigi e dando il metano come elemento chiave per raggiungere e confermare quegli obiettivi biden ha anche dato un po di numeri in termini economici quindi ha detto che gli stati uniti stanno investendo più di 20 miliardi di dollari nella riduzione del metano a livello nazionale e per fare degli esempi concreti si stanno concentrando ad esempio sulla chiusura dei pozzi che perdono metano quindi pozzi esausti che continuano a perdere metano verranno chiusi inoltre per ridurre le emissioni biden si è dato l'obiettivo di migliorare le attrezzature industriali nei settori in particolare dell'oil in gas ovviamente queste misure per biden ridurranno le emissioni dell'87 per cento al 2030 rispetto al 2005 per gli stati uniti quindi anche qui un impegno che sembra interessante non ci ha parlato di confronto rispetto al 90 che poi il target di riferimento ma comunque diciamo che il percorso è tracciato guerra al metano riduzione del metano miglioramento delle tecnologie legate in generale all'oil and gas la linea che gli stati uniti si sono dati come dicevamo non è la stessa linea che si sta dando l'europa in particolare francia germania e italia che invece sul metano stanno puntando in maniera molto molto importante e quindi in questo forse dovremmo un po svegliarci a livello europeo e cominciare anche noi a darci un'analisi seria a farci un'analisi seria su cosa veramente vuol dire questa corsa al gnl in particolare ne abbiamo parlato nelle precedenti nei precedenti appuntamenti gli usa hanno stanziato stanzieranno per meglio dire 150 milioni di dollari per opere di adattamento in africa e 500 milioni insieme all'unione europea in questo caso per la transizione verso le rinnovabili in egitto ora se 500 milioni destinate l'egitto possono essere un intervento importante anche in termini proprio di contropartita per una maggiore democratizzazione del paese i 150 milioni per l'africa sono una goccia nel mare perché vi ricordo che secondo vari studi l'africa avrebbe bisogno di 600 miliardi per riuscire ad ottenere un adattamento al riscaldamento globale alle emergenze climatiche che li sono molto molto forti quindi bene di nuovo ma non benissimo parliamo veramente di un nulla rispetto alle esigenze generali usciamo un attimo dalla cop per parlare del nostro ministro picchietto frattin che ci ha regalato a ecomondo la settimana scorsa alcune perle e anche però alcune notizie davvero importanti non è andato a charme el sheik speriamo che ci vada almeno per le trattative finali ma in un suo intervento a ecomondo sollecitato su vari temi dei giornalisti ci ha rivelato alcune informazioni che a mio avviso meritano e sono degne di nota innanzitutto il ministro ha dichiarato di aver quasi raddoppiato il gruppo di esperti che si occupano di valutazione di impatto ambientale a livello ministeriale quindi quelli che valutano i progetti presentati con l'obiettivo di arrivare in 5-6 anni ad autorizzare 70-80 gigawatt di rinnovabili più o meno circa il doppio dell'obiettivo con cui ci ha lasciato cingolani se questo venisse effettivamente concretizzato sarebbe sicuramente un impegno molto molto importante per l'italia ve ne daremo conto man mano che il percorso andrà avanti un altro annuncio a mio avviso davvero importante di rilievo è il tema dei ormai famosi decreti attuativi legati alle comunità energetiche li aspettiamo da tantissimo tempo il ministro si è impegnato a emetterli in ha dichiarato 5-6 giorni vediamo cosa accadrà questo sarà facile da verificare aspettiamo 10-15 giorni vediamo cosa accadrà però speriamo incrociano le dita perché sono decreti davvero molto molto importanti e molto attesi all'atere sollecitato dal tema delle trivellazioni anche a causa di un intervento a gamba tesa e giustissimo a mio avviso del presidente della regione veneto zaia che si è detto molto preoccupato per il tema della subsidenza nella sua regione il ministro ha candidamente ammesso che si faranno gli studi del caso ma che le trivellazioni devono andare avanti ma d'altronde è un obiettivo appena passato per il governo e verranno aperte ha detto il ministro nuove trivellazioni per rendere l'approvvigionamento del nostro paese sempre più autonomo da paesi terzi parliamo del nulla perché stiamo parlando alla fine di un miliardo e mezzo di metri cubi di gas di forse 15 miliardi in 10 anni forse quindi di fatto una goccia nel mare e un peso davvero ridicolo però la barzelletta del nostro ministro che magari probabilmente non dialoga con i suoi stessi delegati e che in contemporanea praticamente nelle stesse ore a charme shake l'italia firmava una nuova dichiarazione che andava a consolidare gli impegni presi a glasgow sulla riduzione delle emissioni da metano quindi da produzione di energia o comunque da usi del metano del 30 per cento quindi ci impegniamo ad aumentare l'estrazione di metano in italia e a charme shake filmiamo un accordo per ridurre del 30 per cento l'utilizzo nel metano nella produzione di energia e non solo come al solito il nostro governo che definirlo schizofrenico è poco e non dipende certo dal colore ma è un po la storia del nostro paese un altro elemento chiave molto importante è stata la firma dell'agenda per la svolta circa il un numero di paesi che rappresentano circa il 50 per cento del pil mondiale quindi un peso molto importante ha firmato questo documento che è stato chiamato l'agenda per la svolta è un accordo di fatto tra questi paesi per ridurre le emissioni dei cinque settori produttivi più inquinanti in termini sempre climalteranti e in particolare parliamo di agricoltura trasporti produzione energetica produzione di idrogeno e acciaio verranno aggiunti degli altri nei prossimi mesi secondo questa agenda e perché questi cinque perché questi cinque insieme rappresentano circa la metà delle emissioni climalteranti del paese del pianeta quindi sono di fatto i cinque settori più pericolosi per il futuro del pianeta l'accordo prevede la messa in comune di risorse quindi competenze energie soldi per adeguare gli impianti esistenti nei paesi che hanno aderito al fine di abbattere le emissioni di co2 quindi un impegno a ottimizzare la tecnologia che già abbiamo per ottenere maggiori risultati sempre nell'ambito delle conferenze e delle trattative a mio avviso è stata molto importante una studio presentato dall'organizzazione mondiale di meteorologia che ha stimato in questo studio che i danni causati dalla siccità in asia sono aumentati nel 2022 rispetto al 2021 di circa il 63% mentre i danni legati alle alluvioni sono aumentati del 23% quindi vedete gli eventi estremi continuano ad aumentare i danni che causano e la loro frequenza questi disastri sempre in asia hanno causato più di 4000 morti e hanno colpito in vario modo 48 milioni di abitanti di queste aree generando perdite economiche per oltre 35 miliardi di dollari capite come questi numeri di fronte agli impegni che vengono presi a sharm el sheik sono di ordini di grandezza superiori fanno impallidire gli impegni che i singoli stati stanno prendendo e c'è questa incapacità di comprendere come investire oggi nella riduzione degli impatti da emergenza climatica e da riscaldamento globale sia principalmente se non vogliamo preoccuparci delle morti che sono la tragedia ma diciamo che rimaniamo all'ambito economico finanziario sono principalmente risposte economiche ai bilanci degli stati secondo il vmo gli investimenti per adattamento nei paesi asiatici per riuscire a contenere il numero di morti dovrebbero attestarsi circa intorno all'1,5 per cento del pil dei singoli stati con in alcuni stati particolarmente sfavoriti dalle condizioni meteoclimatiche questi investimenti dovrebbero arrivare a sfiorare il 2 per cento per permettere di affrontare i disastri che stanno già vivendo in questo momento solo in cina per capirci di cosa parliamo il vmo stima un investimento pari a 189 miliardi di dollari l'anno per l'adattamento quindi solo per affrontare al meglio i disastri climatici sempre in ambito di disastri climatici va avanti la discussione legata al fondo loss and damage che è stato presentato nei giorni scorsi la prima bozza presentata è stata pubblicata sul sito e della copp 27 e ha spaccato i delegati come spesso capita ma in particolare in questo caso a causa ne parlavamo anche la volta scorsa della scarsa competenza diplomatica del paese ospito organizzatore e ha comportato uno spaccamento in due dei delegati da una parte i paesi che devono metterci fondi quindi i paesi sviluppati che cercano di dilazionare il fondo al 2024 quindi la partenza del fondo al 2024 e chiedono una definizione di danno e di incidenza del riscaldamento globale sul singolo evento disastroso molto molto precisa perché hanno paura che le cifre diventino poi esorbitanti dall'altra parte invece i paesi beneficiari i paesi in via di sviluppo chiedono un'accelerazione più possibile un'entrata in vigore sin da subito e ovviamente che i termini siano estremamente vaghi per poter poi attingere in maniera più veloce il dibattito è aperto la sensazione che difficilmente in questa copp si riuscirà a chiudere una quadra e a firmare un documento che sia realmente preciso ma vediamo la trattativa è ancora lunga non credo che come spesso capita si chiuderà venerdì con la fine della copp ma proseguirà anche probabilmente nel weekend rimangono ancora aperte anche tutte le trattative sul calo delle emissioni e sul percorso di transizione dell'africa e dei paesi in via di sviluppo per la produzione energetica dal carbone e dal petrolio verso le fonti rinnovabili qui c'è l'intenzione dei paesi sviluppati di dare un forte aiuto per accelerare questa transizione ma siamo ancora in alto mare nella trattativa e non si vede una linea chiara di accordo se gli accordi sembrano non raggiungere una quadra in realtà sembra che comunque il mondo vada avanti in una direzione più positiva di quello che ci attendevamo in particolare uno studio presentato da l'Energy and Climate Intelligence Unit ci racconta come ci spiega come la Cina quest'anno installerà 165 gigawatt di rinnovabili raggiungendo un obiettivo del più 25% rispetto al 2021 gli USA faranno un percorso molto molto simile e questo comporterà una riduzione delle emissioni che potrebbe aiutarci a mantenere l'obiettivo di 1,5 gradi di innalzamento al 2030 speriamo anche se come detto prima India ed Europa corrono, rincorrono con obiettivi un po' meno veloci e con risultati meno efficaci rispetto a Stati Uniti e Cina per questo dobbiamo attendere purtroppo la controprova dei dati e la conclusione della COP bene per oggi è tutto vi ricordo iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao naviganti